I vicini a casa, quelli che conosciamo, quelli che non conosciamo, quasi diciamo tutta l'Italia, tutto il Veneto, tutti stanno telefonando, stanno venendo qua e stanno facendo tutto. Stanno facendo anche i raccolti per aiutare, per portare le salme in Africa. Ed è proprio a tutti che papà Abdullahie vuole dire grazie. Un abbraccio solidale che non ha conosciuto confini, quello delle tante persone che stanno aiutando la famiglia Bop ad esaudire l'unico desiderio, riportare le salme di Bassiro e Fallou in terra africana. Dopo il tragico annegamento di lunedì scorso nelle acque del Piave. Una speranza questa che diventa sempre più realtà, grazie alle tante iniziative soli dall'incorso, tra cui quella partita dai compagni di classe del piccolo Fallou. All'inizio è partita dalla classe, soprattutto anche dai ragazzini che hanno cercato in tutti i modi di essere vicini alla famiglia. Compagni di classe, amici, conoscenti e sconosciuti. Una grande comunità che si sta muovendo verso un'unica direzione. Tutti per un gesto così. Quello che è successo a loro può succedere anche a qualsiasi persona. Allora dobbiamo essere uniti e dare la forza. È data la tragedia. Mi sembra giusto aiutarsi l'uno con l'altro. Mi sembra giusto comunque per una buona causa e quindi soprattutto per due ragazzi giovani così che hanno perso la vita per un motivo davvero stupido diciamo, semplicemente per un momento di divertimento e di spensieratezza. Quando ho sentito questo giornale che c'è una raccolta qua ho detto ma ci vuole. So che i soldi non fanno niente ma per aiutare la famiglia a portare loro giù in Senega.